Basta, basta, che marmaglia, non vi piace la battaglia? A Roscio Capitano non piace la battaglia, ci piace una bellissima tovaglia, con sopra tante cose di prima qualità. Tra la la, la 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 la. Scrivete più scuro, leggerete più chiaro. Sì, con Vic Nero di China il segno è più netto e preciso. Con Vic Nero di China si scrive più scuro, si legge più chiaro. Quando è il momento della riflessione, quando è il momento dell'azione, quando vi occorre tutto il vostro sangue freddo? Hollywood, la gomma da masticare. Sei confezioni per sei gusti diversi. Nelle confezioni doppie trovate un Hollywood in regalo. Undici gomme da masticare al prezzo di dieci. Hollywood. E' sole e piatti, che sapore è questo qua, che sapore di città. Manette. Lei è un fenomeno, ispettore, non sbaglia mai. Non è esatto. Anch'io ho commesso un errore. Non ho mai usato la brillantina Linetti. La donna chic, se vuole tutti provocare una sciocca, un'arma pura d'infalibri l'avrà. E l'arma è con l'acqua, me d'ambola. Calce, Omsa. Omsa, che gambe. Le marmellate sono buone, sono squisite, sono arrigoni. Le marmellate sono così buone, sono arrigoni. Sono squisite, sono gradite, sono da tutti le preferite. E' naturale, sono arrigoni. Tutto va bene, tutto fa brodo, tutto fa brodo. Non è vero che tutto fa brodo, è Lombardi il vero buon brodo. Alla sera, la mattina, una mano in cucina mi dà. Lombardi, c'è buono. Lombardi. Orietta Berti, vi ricorda? Cera Gloglò, più splendore, più resistente. E vedendo la carne montana che stringo, vengono tutti a mangiare con gringo. Mangiate montana e carne ben scelta, così in gelatina e pratica, svelta, in tipo normale o esportazione, in casa, all'aperto, in ogni occasione, così nutriente, appetibile, sana, e carne ben scelta, e carne montana. E' sempre ora dei pavesini. Voglio la caramela che mi stia aspettando, e che fa dudu dudu, dudu dudu dudu. No, niente macchie impossibili per bio presto. Bio presto è bio lavante. Come la biancheria, Imec. E' favolosa, meravigliosa, Imec è sempre di più. La biancheria che sognavi per te, pratica e fine con me. Solo la donna sa, quale felicità, quale piacere sottile darà, di Imec un capo indossare. Che biancheria, è un'armonia che sta donando ben tu. E' la magia che desideri tu, Imec è bella. E' sempre più bella. Bellissima sempre di più. Gianni? Eh? Nonostante gli schiaffi che ti sei preso, hai sempre una buona cera. Una buona cera? Ottima direi. O c'è la grey? Questa non la bevo. E questa la mangi? Ah, questa sempre. Noi preferiamo il sito di rodine che, è vera pasta all'uovo. Di uovo in ogni chilo per cinque ce n'è, domani anch'io la provo. Domani anch'io la provo. Domani anch'io la provo. Domani anch'io la provo. Brava, brava Maria Rosa, ogni cosa sai far tu. Qui la vita è sempre rosa, solo quando ci sei tu. Col vento che tira, io mi aggrappo alle piccole gioie della vita. Al formaggio? Sì, al parmigiano reggiano. Se ti resta ancora un dubbio, tanto semplice provarlo, la minestra piace il doppio con il doppio. Nel doppio Brodo Star, due punti per i famosi regali. E due punti anche nel Gran Ragù Star, lo squisito ragù già pronto. Il suo segreto è la carne, che è tutta colpa magrissima, tenera, succosa. Chiedete subito al vostro negoziante il nuovo bellissimo Albo Regali per tutti i prodotti Star, che contiene la tessera con 52 punti omaggio. Gigante, pensaci tu. Ci penso io. Mezzo, perdonami. Mezzo, mi ungi la giacca. Impossibile, perché uso Tricofil, la crema per i capelli che assolutamente non unge. Usala anche tu. Se il buon vino fa sempre buon sangue, che miracoli fa l'Olio Dante? Sano, vero, genuino. Olio Dante vuol dire qualità. Olio Dante! Il suo gusto fragrante e squisito è un augurio di buon appetito. Dal più grande al più piccino, tutti d'accordo. Che bontà! Vetril e senza più fatica risplenderà la casa in men che non si dica. Vetril per vede e mobili laccati, per specchi, cristalli e inoltre tutti i vostri pavimenti con Solex risplendono di più. Vetril e lo sporco non attacca. Solex e Vetril, due prodotti di bellezza per la vostra casa. Chi raccoglie con costanza figurine Miralanza, ricchi premi in abbondanza, di sicuro vincerà. Coop rende terzi e lucenti piatti, bicchieri posate. Calinda Extra è particolarmente indicata per marmi, piastrelle, pavimenti e bagni. Basta il nome Miralanza a indicare qualità. Miralanza!